ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo e ground ringrazio vivamente fancy fish games per la free key e andiamo esplorare questo nuovo gioco abbassando naturalmente la musica ok perfetto gameplay option ok c'è le lingue vediamo se c'è l'italiano non c'è l'italiano ok questi sono i controlli perfetto bando le ciance ciancio alle bande andiamo subito a provare questo nuovo gioco abbassando un po più ancora un po la musica grazie mute a non so cosa sia full screen full screen ok importi sport ok back è una preview e come tutte le preview io non ho mai giocato questo gioco prima d'ora e lo andremo a scoprire insieme a ci sono pure le mods core full game hanno messo pure le modi ok proviamo andiamo a vedere cosa è questo gioco nuovo giocatore a skin color ok questi sono i capelli facciamoci il vecchietto tutti i capelli possibili immaginabili perfetto ah ok face a face a layer sarebbero i baffi occhi ce l'abbiamo neri perfetto skin la cambiamo white non c'è nero no non c'è nero ok mettiamolo grey shit style close the open a ok perfetto e pants color orange yellow grey blue blu come jeans perfetto andiamo ok 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 dice che è stanco e freddo E ha bisogno Oh mio dio Cos'era Ha bisogno di un riparo Addio E lo farà con VFX per favore Madonna mia E lo farà con gli alberi caduti Z Perché questo tasto bruttissimo Z Ok Z E questo qua cos'è un topo Pickberry Ma Z è bruttissimo Scusate eh Controlli Non si può cambiare la Z con La Q o la E Equipment Q e Quest Ok Perché Z è Madonna mia Raccogliere Z con Z è bruttissimo E' cambiabile? No Non è cambiabile Ah ok c'è anche il controller Si potrebbe giocare col controller Ok Eccolo qua Action Beh a questo punto Usa il tasto del mouse Per la raccolta Ok Ma il topo No Ha bisogno di trovare Conoscete Va bene Siamo troppo pesanti Però non capisco Ah eccolo lì Spacebar fa qualcosa Control Tab Shift Spacebar Ah ok Non l'ha cambiato Control Spacebar Vediamo Si l'ha cambiato Vai Questo Che cos'è questa costruzione Sembra Fermare il mezzo La stavano costruendo ma è stata bloccata O si sono fermati con i lavori E stavano facendo appunto rifugio 8 wood Dovrebbero bastare Ok Accetta Ne ho messi 7 Me ne serve un altro Ripara Questi tuoni mi stanno spaccando le orecchie Però va bene Aiuto Per favore Rifuso Qualcuno è fuori Ci credo Massi dai Siamo gentili Ah era lui che lo stava facendo Per adesso Stai caldo E asciutto Ok Come farai a sopravvivere In questa deserta isola Dice Ok Siamo bloccati qui E Non possiamo tornare indietro Beh Dice Oh Possiamo provare a vivere qui Magari non è tanto cattivo vivere qui No Gioco salvato Ok Così Restiamo Ah ok Se portiamo avanti Facciamo il resting Nella Nella casa Però vi posso dire una cosa Quei tuoni mi hanno spaccato le orecchie Perfetto Lui ci dice Praticamente Che se dobbiamo vivere qui Take this Stone axe Ok Che se dobbiamo vivere qui Dobbiamo Praticamente Costruire un magazzino E lui dice che con Otto wood Quindi otto di legno E No 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 Fermo Otto wood E Quattro berry Se non mi ricordo male Con la q Premiamo La quest Infatti Otto Legni E Quattro Bacche Berry Mi ricordo se Berry Bacche Comunque quella roba lì Riusciamo a costruire Il nostro Strasse Ma io li posso uccidere a sti cosi Wow Si Ma posso buttare giù anche l'albero Tasso sinistro del mouse Yeah Cos'è sto uccellino Io ho un mazzo a uccellino C'è un tab però Ah ok Tab E questo Ok Parliamo Questo è l'inventario Ci mancano Ci manca la legna Vabbè Buttiamo giù quest'albero Lo costruisco Ah Possiamo dirgli Devo andarlo a mettere Ehm Ma qui c'era la cosa Non posso metterlo qua Mi piace più qua Ah però qua c'è lui Vabbè dai Costruiamo Abbiamo costruito Il nostro Primo Deposito Ok Dice Non ti senti compiaciuto Per averlo fatto Ok No problem Ok Level up Più 10 skill point Quindi possiamo aumentare la massima vita Peso Critical Evasione Attacco Non è abbastanza skill point Rimanenti per incrementare questa skill Eh scusami Dice 50 Skill point 50 Come si fa? Non l'ho capito Skill point 10 di 10 Ok su tutto Dice non puoi Vabbè Skill point qua Ah Quindi vuole 8 Per aumentare la vita Va bene Abbiamo aumentato la vita Ah c'è un'altra tipa lì Hai visto che c'è un miner Emerge dal sottosuolo Tu dovresti Ah Attenzione Ma si può togliere questo qua Così io raccolgo Questo Grazie C'è un miner qua Parliamo col miner Ok 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 ci ha dato la stone peak Per andare nel sottosuolo Quindi se premiamo S Possiamo scavare Che cavolo è sto coso? Ma ci sono i mostri? Era un boar V Allora fammi capire Questo lo possiamo mangiare Mangiamo Uno Perfetto Ah ci sono i slot Quindi possiamo selezionare Tipo Questo lo mettiamo nell'uno L'apple Qui Fico Cancella Così ci li mangiamo in automatico E qui Store blueprint Ma se vogliamo spostare la roba Tipo questa Questa la possiamo Sì questo lo possiamo piantare Aspetta Aspetta Abbiamo appena fatto Ok Nell'inventario Uno Due Tre Quattro Ok Vi Piantiamo questo seme Pianta È un albero Proprio Sono pianti qui Qui c'è qualcosa Ah lì sta ricrescendo Quindi praticamente Dove ricrescono Se tu lo vuoi piantare Da qualche parte X cancel Perfetto Andiamo a vedere Prendiamo ste robe Scendiamo Ok Come faccio A equipaggiare Lei non mi ha dato La pickaxe Non ce l'ho Non so Dove è finita No C'è un porco qua No Ah così lo passiamo Perfetto Possiamo anche questo Ah ho capito Ma domanda Completata Poi Come si fa a completare Te l'ho fatta Completata Achievement Tanta roba Repair arts Incompleto Come incompleto No Completo Ah ok E ho capito Come si faccia a costruire Dammi Ho capito Ma non Non c'ho Ah Con questo Ah ok VSD Lui scava in automatico C'è qualcosa C'è un mostro C'è un mostro Il mostro Il mostro Il mostro Aspettiamolo qua Guarda come mangio Va 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 Ma si sta a mangiare tutto quello Ma non si può uccidere No Non si può uccidere Vabbè io mi prendo il coal Che me frega Ok Questo Ah il picassi L'abbiamo in automatico Beh credo che abbiamo un sacco di coal adesso Di carbone Via Over Ok Ok siamo Troppo pesanti Oh Aspettis C'è il bore Livello 2 Devo metterlo per forza Voglio aumentare il critical Ok Che sta roba Latte C'è tutto il latte signori Ottimo Mettiamolo qua Poi questo lo mettiamo qua Le berry Le mettiamo qua Perfetto E ci mangiamo un apple Così A buffo Adesso che abbiamo raccolto quello Io non ho capito la mia missione Quale sarebbe Dobbiamo parlare con la tipa forse Ah Più in bassa andiamo E più Materiali Fighi troviamo Praticamente Allora andiamo qua Scaviamo qui Over carry Ma Subito C'è il coal È veramente Pesante Eh sì Possiamolo tutto Vai No Avrei preferito un tasto Per Per scavare Io sto cosa non l'ho capito Sto verme Secondo me ci ammazza Adesso vediamo Eh Qui c'è Una caverna scavata Ma tipo Immenso Sto posto C'è un tunnel Andiamo all'avventura Ecco Vedi Questo No questo non ce la facciamo Siamo arrivati alla fine Quello chi è Ma che è sta roba Chi è Un arciere Un arciere Un archerman Chi è questo Costui uomo Eh Infatti Devo uccidere i cinghiali Ma arrivano E mi fanno male Dammi Dammi l'arco Ok Accetta l'offerta Dobbiamo costruire Un workbench Perfetto Grazie Ce lo da Lì ci dice che Preferisce L'arco Ma tu puoi costruire Anche Delle mele Weapons Quindi attacchi Delle Armi Non a distanza E uno scudo Per bloccare Perfetto Quindi ci equipaggiamo Usa E per equipaggiare L'arma Per attaccare Con equipaggiare L'arma Usa quello Per bloccare Con lo shield Perfetto Grazie Ci ha insegnato A combattere Signori Ci ha insegnato A combattere Grazie Ma questo qui Ci insegna Le magie La magia Abbiamo pure Le magie Ecco Per esempio Questo qua La vera La wirm Questo Questo Cosa qua Cosa vuole Se tu vai vicino Alla wirm Dammi un po' Di dragon blood E ci darà qualcosa Io ci provo Che io l'ho visto Quello là Usciamo da qua Andiamo di qua Permesso Andiamo All'attacco Vediamo Qua fa freddo Piano C'è tutto Carbone Ah C'ho la stamina Che si sta riducendo Devo andare a dormire Vabbè Dobbiamo trovare Il vermiciattolo Prima Allora Facciamo così Madò Quanti borci Sono lì Che ci fanno Allora Intanto rimaniamo Così recuperiamo Ma che Guardate Quella a sinistra Bella ciccia ciccia Stupendo Il character Vabbè Quello mangio a destra Sempre mangio Ok Perfetto Tanta roba Bla 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 Ci raccontano la storia Come sopravvivere No eccetera eccetera Abbiamo salvato il gioco Perfetto Perfetto Il bor Allora I cinghiali non scendono qua Qui c'è un buco Che non l'ho fatto io Ah è lei che scava Oh ma Ok Possiamo costruire Un Uno smelter Dove lo mettiamo Se abbiamo la fornace La mettiamo Ma si può girare? No Qua Perfetto Ah va c'è l'oca E c'è l'acqua No 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 L'acqua lascia stare Ok L'unica cosa Che Se potessi correre Serebbe meglio Eccolo qui Oh oh Adesso attacca Sto coso Come blockhead Perché blockhead Perché da dietro Eh infatti Oh mi sta facendo Malissimo Adesso lo posso attaccare Vai Great L'ho ucciso L'ho ucciso Ah skill point Subito Ehm 22 Io voglio critical Ma ma così Ma non Ma non Non funziona così Ancora è vivo Sto coso Ci devo andare Alle spalle Ma io gli faccio Uno Lui mi fa sei Ma com'è sta storia Oh E lo manco pure Allora Mangiamo di nuovo Ma ci sta facendo Malissimo Ma perché non mangio Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Perché la vita Scende Quando mangio Ma ma Io ho mangiato Sono Vabbè signori La nostra prima morte Come game over Come game over Oh no Game over Ah C'è il Il cinghialo No game over No Vabbè Facciamo Lo smelter Perfetto Ce l'abbiamo già Rifacciamo di nuovo Questa cosa qua Andiamo qui Aspetta però Su questo punto No ma così si blocca No meglio di là Facciamolo qua Perfetto Adesso Senza Ma il workbench Come lo facevamo Scusami Dicevo detto di fare anche Magic material workbench Ah Uccidere questi Ok Deve uccidere i boar I cinghiali Eccoli là Oh ma c'è anche uno Eccoli qua Vai 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 Fanno male cane Prendi la tempistica Vai 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 Due Vai 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 Un altro Un altro Ce n'è più C'è più Quanti li ho uccisi Quattro Me ne serve uno Level up Stamina Stavolta Aggiungiamo un po' di stamina Non capisco Il level up com'è Però va bene Funziona Ci sono I ratti Eccolo lì Vai vieni Ora No Ora 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 Grande Fatto 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 Quindi Praticamente Eh Devo costruirla Però E vai Non ce l'ho No Questa Era un'altra cosa Ok Si è rotta La musica Ah no Era Ok Passiamo Allora Scusa Nio mi ha detto Eh Eh Equip Eh E non ce l'ho Io volevo Prendere la Questa è la Mining Armor Non c'ho niente Questo non c'ho niente Quindi devo andare così Vabbè Eh Io volevo usare Oh ma questo qua Questo vecchietto qua Cosa vuole Ah La fattoria Sì sì Accettiamo 14 wood Guarda C'era un altro Aspetta Do qua C'era un altro wood A qualche parte Eccolo qui Prendiamolo E voglio Vedere una cosa V Se io mangio Questo No questo è stamina Questo è hilt Ma meno 5 Ecco perché siamo morti Questo ci toglie La vita Questo ci dà La vita E c'ho anche un workbench Che ancora non ho messo E mi sa che lui voleva Che usassi il workbench Per costruire L'arco E adesso lo andiamo a mettere Allora Intanto facciamo così Che ci serve Togliere questo legno E ammazziamo Ammazziamo La Cosa Posiziona Dove l'ho posizionato Ma io l'ho posizionato qua No E' bruttissimo Posizionato qua Non si può togliere Avevo posizionato qua Io volevo fare Vabbè smetto ora E posso fare così Colleziona Ok Ah si può togliere Beh grande 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 Quindi lo andiamo a mettere Qua Allora V Workbench Posiziona Qua Perfetto Usiamo per craftare Tanta roba Tanta roba L'arco Questo è l'arco L'arco ci vuole Ah ci vuole un iron bar Per fare l'iron bar Noi dobbiamo andare qui E L'iron bar ci voglia naturalmente Iron ore Che non abbiamo Quindi Andiamo A depositare tutto Ok Ci mettono la stamina Queste ci fanno malissimo Le buttiamo via L'apple Sempre stamina Il cibo va bene Il wood Lo posiamo E Direi di Dormire Oh c'è un altro C'è il vecchia C'è tutta la famigliola qua Siamo in tre adesso E devo lavorare solamente io Cioè Ma c'era anche quello dietro Fico Ok Vediamo se riusciamo a uccidere Questo qua Prima però Dobbiamo selezionare Questo Che ci conviene Poi Questo qui cos'è Ecco Perché Se no Morimo Ehi vai Se n'è andato La nostra missione È uccidere questo qua Vai 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 No Adesso lui dovrebbe No Tornare indietro È È veloce È bloccato Blocca Aia Ma Ma mi fai un male Cane Ma poi miss Mi sa che è troppo forte Ancora O intanto lo becco O intanto no Eh se n'è andato Mo dovrei bloccarlo io Ah No Adesso Adesso No Non so con che criterio Funzioni Ma Credo che stia sbagliando qualcosa Va bene Credo che Non riusciamo a farlo Andiamo giù In cerca di Iron ore Scaviamo nelle profondità Eccola qua Ottimo Ah qua ci vogliono le torce Quindi Quindi Con le torce Io ci perderò la vita In questo gioco Io già lo so Allora Possiamo La stamina Sì Due Due Ah non ce n'ho più Scusa V Non c'ho più niente Ho mangiato tutto Ho mangiato tutto Lo so Lo so Sto perdendo vita Perché Perché Ma 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 No Ma 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 Possiamo fare il pane Il pane Ma c'ho un sacco di queste Mi sto confondendo Allora Siamo calmi Allora Vuole fare l'arco L'arco Per fare l'arco Allora Qua Cosa abbiamo Ci mancano le iron ore Andiamo a prendere le iron ore Andiamo giù Nelle profondità Tanti non abbiamo Cosa abbiamo Due pani Stamina Ok perfetto Stamina ce l'abbiamo Questo Direi di metterlo sul tre Perfetto Andiamo giù Prendiamo il nostro primo pezzo di iron ore Qua è diventato buissimo Eccolo lì Trovato Ci saranno anche i diamanti Oh Lì sotto Lì sotto Vai giù Questo 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 Bravissimo Ne abbiamo tre pezzi Ah c'era un altro Aspetta Ottimo Andiamo su Dovremmo incominciare a craftare un po' di Di torce però Perché è veramente buio No 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 Non mi toccare Ok Dov'è la workbench? Di qua Vediamo se riusciamo a Ah no scusa Scusate Ha ragione Prima dobbiamo andare a smeltare la roba Smelti in questo Quanti Due E fuel? Dobbiamo mettere il fuel pure Andiamo a prendere Chi che mi ha rubato? Ma ha detto Mi hanno rubato Non ho capito Ha detto Qualcuno ha rubato questi Non ho capito sta roba Dove si mette questa cosa qua? Dove? Come si mette Le fuel? Ah aggiungi fuel Eccolo qua Non l'avevo visto onestamente Sì sette Vai 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 Smelta Guarda come smelta Pam Aspetta Grande Abbiamo raccolto Adesso andiamo di qua Ecco c'è la workbench La usiamo con lo space E creiamo Il nostro arco Uno Frecce Una Ok Abbiamo uno skill point Allora Siccome Facciamo schifo E Aumentiamo la stampa Raccogliamo tutta questa bella robaccia Andiamo qui E no Scusa Andiamo qui E ci creiamo Delle frecce Poi ci facciamo anche il campfire Tre frecce Ed equipaggiamo Qui Il nostro bellissimo arco Ma Dobbiamo Parlare con Quel tizio lì Dov'è 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 Mo Questa è la nostra farm Possiamo entrare nella farm Abbiamo Grano E questa roba qua Quindi Sì Ah eccolo qui Eee Arciere Amico Che fai Accidenti Oh Fico Ci ha dato il suo backpack Abbiamo finalmente lo zainone Per raccogliere le cose E lui ci dice adesso Di costruire Delle cose Che per fare Delle cose Va bene Non so Cosa Fertilizza Ci serve La cacca Ok Va bene Ah così L'ho Falciata Ok Lui spara Come un pazzo A questo punto Andiamo a Vedere se riusciamo Ad uccidere Finalmente Quegli esseri Schifosi Qua sotto Guardate Guardate quanto è lungo Questo tunnel Che ha scavato Quello lì Vediamo se riusciamo La Q Cosa abbiamo Ok Dobbiamo Ho sbagliato A parlare Dobbiamo Ah Questo è il nostro Backpack E qui ci possiamo Cliccare Dobbiamo Uccidere Quelle Quei vermi Che girano Qua intorno Allora Vi Intanto Questo Ci mettiamo I prosciutti Questo È una mela E questo E questo Ok E ci mangiamo La mela Per la stamina Vai C'è tanto Carbone Dai Speriamo Che ce la facciamo Lì c'è il nostro Amico Per le magie Vediamo se riusciamo A Prendere le magie Qui Usciamo da qui Entriamo da qua Facciamo tutto Questo percorsone Ma Posso salvare No Proprio Alla merce Dell'auto Saving Eccolo qui No Ma la posso recuperare La freccia Colletta Possiamo recuperare Le frecce signori Ora io voglio sapere Come faccio A uccidere sto coso Perché sto coso Cammina Oh Fico L'abbiamo colpito L'abbiamo colpito Fico Fico Vai Vai Scappa 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 Dai Sì Grande Ce l'abbiamo fatta Abbiamo ucciso La Weaverna Adesso però Andiamo a dormire Perché abbiamo Una stamina bassa E No vabbè Però possiamo fare così E recuperiamo 40 Ottimo Ottimo Andiamo Andiamo a Recuperare le forze Guarda davanti Personaggi ci sono Guardate qua In alto a destra C'è lui Fanno solita Discussione Ok Andiamo Ottimus Prime Quindi possiamo andare Da lui E ci andiamo di qua Ci siamo quasi Lo so L'ho Grande RS Bravo tents Sì un altro Water Mori 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 Dammi il prosciuttone Ok, questo Harvest Hall Perfetto E li mettiamo di nuovo No, no, no Harvest Hall Ok Quindi adesso se io faccio così Ah, due diotte Lui produce, produce, produce Tend crop Esatto, se change crop Ok Prendiamo un po' di Queste Guarda quanti borci sono qua Ahia Ah, c'erano un po' troppi secondo me Ah, vi potete portare Da quello che ho capito Anche dietro il workbench E poi craftate man mano che date in giro Si può Che prima ce l'avevo nell'inventario E diceva Crafting Quindi posso andare in giro Invece di tornare alla base E craftare Andiamo qui E andiamo dal nostro mago Uh, ma che figata Possiamo fare Possiamo Attack potion Con le bacche avvelenate Con le bacche avvelenate Vedi, vedi, vedi Poi defense potion E tanta roba E tanta roba Uh, an answer shield Vuole tanta roba Veramente tanta Bene Veramente tanta roba Ma di qua si può salire? No Questo non ce lo fa rompere Secondo me abbiamo bisogno Della Della ascia Di livello maggiore E poi possiamo andare In giro E aumentare Penso Ancora di più La mappa Ok Intanto raccogliamo legna Che Non fa mai male E ci mancano le frecce Quindi Intanto Raccogliamo il tutto Harvest Questo Tanti Questo è finito Raccogliamo anche qui Perfetto Siamo pieni zeppi Sì, sì Vai, vai, vai Tranquillo Sta sudando Guardate Adesso Arriviamo Alla resource Qua E posiziamo Ah, cosa vuol dire Di volta Rubato qualcosa Di questa cosa qua Non l'ho ancora capita Però Capiremo Ben presto Uh Vai a romperlo Lo mettiamo qua E siamo a posto Abbiamo anche Il pane Ok, bene Perfetto Chiudo qui il gameplay Spero vi sia piaciuto Questo gioco Hai durato un po' di più Del solito Ma Perché mi stavo Veramente appassionando Mi stavo veramente divertendo Spero vi sia Piaciuto il gioco Spero che Abbiate capito Molto di più Da questo gioco In descrizione Vi lascio il link Di steam Per supportare questo canale Potete lasciare Un like O un commento E se vi va Iscrivetevi E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Bye